Il subambito 1 del piano di zona S1 ricerca 21 figure professionali, 9 assistenti sociali, 2 sociologi, 1 psicologo, 4 educatori professionali, 1 esperto informatico, 2 esperti contabili, 1 legale amministrativo e 1 esperto in comunicazione, che però non è iscritto all'alpo dei giornalisti. La novità è stata introdotta nei giorni scorsi modificando il bando originario che invece prevedeva come titolo di accesso proprio l'iscrizione all'ordine. L'atto di modifica firmato dalla responsabile del piano, Rosa Montuori, ha introdotto anche una diversa valutazione dei titoli di servizio e una nuova soglia per l'ammissione al colloquio. Le modifiche sono state apportate alla vigilia della scadenza del bando, fissata per il 23 aprile, facendo slittare la decorrenza dei termini al 10 maggio. Azioni che non sono passate inosservate. Il circolo di sinistra italiana di Nocere Inferiore le definisce modifiche a ribasso. La segretaria Sofia Russo non usa mezzi termini, a partire dalla cancellazione dell'iscrizione all'albo dei giornalisti quale titolo di accesso per l'esperto di comunicazione. Assistiamo, si legge in una nota, al declassamento della professionalità di una figura così importante. Non avere una figura adeguata può comportare il fallimento di tutto il piano sociale. Assumendo una figura non professionale, continua Russo, ovvero non iscritta all'albo dei giornalisti, si corre il rischio di perpetuare gli errori delle gestioni precedenti. Le altre due modifiche innalzano i crediti per i titoli di servizio e abbassano invece la sticella per accedere agli orali. Nella situazione in cui versa l'Italia con un continuo accrescimento delle fasce di povertà, aggiunge Russo, non possiamo puntare al ribasso per il piano di zona, luogo primario da cui scaturiscono azioni di sostegno ai cittadini.